Salve a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo video del canale Doppio Schiarico. Oggi come potete vedere sono da solo nella mia stanza con la mia postazione e questo perché il mio collega è malato di covid ma purtroppo il periodo è quello che è e quindi ce lo addattiamo. Mi raccomando, è sempre in corso il contest, al raggiungimento dei 1000 iscritti ci sarà una sorpresa per voi. Nell'altro video purtroppo non abbiamo raggiunto i 100 like richiesti quindi niente non vi sveleremo ancora l'oggetto del contest. Questo video arriva almeno a 50 like nel prossimo video ve lo sveleremo. Bene come avete visto già dal titolo oggi faremo un tour del mio garage. Vedremo la mia attrezzatura, tutto quello che ho nel garage, le attrezzi utili e non per la macchina. E niente non perdiamoci in chiacchiere e ci vediamo nel mio garage. Eccoci qua ragazzi siamo arrivati nel mio garage, adesso inizieremo il tour. Bene iniziamo dagli elementi principali e come potete vedere qui c'è la macchina elettrica, la nostra id3. Quindi per la macchina elettrica come facciamo per ricaricarla se l'abbiamo in casa? Noi abbiamo trovato anche una soluzione al wallbox quindi la prima cosa che troviamo nel mio garage è un wallbox diciamo fatto in casa anche se in realtà è molto più che funzionale. Ragazzi ecco il nostro wallbox semplicemente, oh a fianco c'è dello svitol subito lo vediamo ma non perdiamoci in chiacchiere questo wallbox è semplicemente una presa asciugo. Abbiamo fatto l'attacco diretto infatti come potete vedere questo va su direttamente quindi all'attacco della corrente che sta fuori. Bene ma ora parliamo di lui questo piccoletto è uno scooter elettrico della marca Electra come potete ben vedere. Beh è un semplice scooter elettrico molto utile per la città in realtà è un po' vecchiotto a qualche anno quindi diciamo ha un'atomia di 50 60 chilometri anche se adesso ne farà 40 e vedete qualche segno di guerra qua sopra insomma ma tutto sommato è un buono scooter. Bene inizierei subito con un attrezzo che secondo me è fondamentale e importantissimo da avere in ogni garage. Abbiamo qui il nostro compressore da ben due cavalli sempre elettrico comunque ho un buon compressorino non è enorme fa il suo dovere possiamo oltre che controllare la pressione dei pneumatici ho tutto il kit per la verniciatura eccetera vedete in questo momento acceso funziona un piccolo trucco ragazzi se non avete un compressore e andate comunque a controllare le pressioni delle gomme da qualche altra parte da qualche altro luogo mi raccomando andate sempre nello stesso punto perché così avete diciamo sempre la stessa regolazione simile perché questi attrezzi comunque si sbagliano e soprattutto quelle che vi mettono gratis a meno che non andate da un gommista che giustamente ha tutti i kit tarati al millimetro e quindi non sbaglieranno di sicuro. Poi non può mancare in un garage che si rispetti la collezione di scotch e vari tipi di nastro qua c'è qualsiasi tipo di nastro che volete manca il nastro nero invece no eccolo qua 3m bello bello spesso per rapinare le persone oppure per rattoppare i vostri buchi nella macchina bene ora vi mostro tre pistole fondamentali che dovete avere nel vostro garage e per la vostra macchina pistola saldatrice per saldare le vostre luci led e i vostri cambus questo sempre utile. Pistola con la colla a caldo utilissima per attaccare le vostre luci led nella macchina e per piccole riparazioni oppure se avete paura che i vostri adesivi si staccano usate questa pistola. Infine ma non meno importante la pistola a caldo questa raggiunge temperature elevatissime non è un fono non asciugatevi i capelli mi raccomando con questa se no vi asciugate anche l'anima e questa è fondamentale sia per applicare bene le pellicole come ad esempio la pellicola in carbonio o altri tipi di pellicole ma anche per staccarle e questo è un attrezzo fondamentale se volete fare decorazioni o comunque sistemare pellicole messe in modo male sistemarle ancora meglio elevare buchi d'area in qualsiasi cosa questa è fondamentale. Mmmmm li brucia tutti. Vediamo poi come nei vari scassali ho tutti diversi tipi di chiavi viti eccetera qualsiasi cosa mi serve vado qui la cerco e la maggior parte delle volte la trovo. Per la serie cose che usavo ma non sapevo di essere un coatto filtro a cono blu questo l'ho usato anche nella mia precedente auto che era una Lancia Ypsilon modello il primo modello bellissima macchina modificata anche con lo scarico cosa che non ho fatto su questa macchina beh avevo questo fantastico come potete vedere filtro a cono che è stato passato anche nella mito ma non ha diciamo portato i risultati dovuti. Un'altra cosa coatta è il pomello del cambio questo si illumina o ancora si illumina attenzione plot twist bellissimo ragazzi se volete non ve lo regalo perché costava una cifra pure tre diverse modalità da mettere nella mito fatemelo sapere chi lo so poi i tanti agognati freni della Brembo pesantissima la scatola questi non so per quale macchina erano mi sembra la mia vedete io prima avevo queste pasticche ma sono praticamente nuove e anche queste pasticche fischiavano marca non lo so sconosciuta ma praticamente le pasticche erano nuove e fischiavano questo perché si sono cristallizzate ma io penso che a questo punto sia un problema di dischi quindi cambiare dischi con dischi della Brembo guardate è bella la marca a me fa citare però se mi fischiano le pasticche che ce devo fare un'altra cosa strana che troviamo nel mio garage è questa centralina per le luci allo zeno queste le avevo sulla mia vecchia moto non chiedermi infatti qua c'è un po di vernice rossa ma queste potrebbero essere utili per tornare a fare il coatto di periferia ma le luci allo zeno ormai sono andate ragazzi usate i led che sono mille volte meglio invece per la serie di cose indispensabili da avere nel garage chiave per smontare le ruote chiave a pappagallo indispensabile in ogni garage se non ce l'avete non avete un garage o non siete uomini fascette 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 invece da quest'altra parte potete vedere l'alloggiamento per le bici adesso ce n'è solo una non so perché che fine hanno fatta le altre l'alloggiamento per le ruote delle bici che è sempre solo di quella ma in realtà non è solo quella dell'isci del dopoguerra le hot wheels da dove è nata la mia passione per le macchine forse da lì o forse no a quasi mi dimenticavo un altro attrezzo utile fondamentale per pulire le vostre macchine è l'aspiratore questo qua fa un casino della madonna però per gli oggetti grossi quindi quello che aspirate dalla vostra macchina è utile e perfetto costa poco lo trovate insomma un po ovunque bene ragazzi questo era il tour del mio garage diciamo che un garage con cose utili è un garage dove c'è tutto dove se ti serve una cosa vai là e forse la trovi nel mescuglio di altre cose spero di avervi dato una mano magari anche voi avete le stesse cose nel vostro garage magari anche di più oppure di meno insomma diciamo queste erano le prime cose che mi venivano in mente che utilizzo quando mi serve da fare qualche lavoro sulla mia macchina certo i lavori che potete fare a casa sono sempre limitati non è come in un'officina quindi che potete fare questo e quant'altro però avere il minimo indispensabile a volte è utile per risparmiare anche tanti bei soldini spero che il tour vi sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao